Nuove visioni museali, due giorni di convegno, quali temi che verranno trattati? Siamo colleghi, anche amici, insomma, discutiamo insieme delle nuove problematiche dei musei nell'ambito di una società in continua evoluzione e cambiamento, quindi anche nuovi linguaggi, nuove forme di accessibilità, nuovi sistemi per comunicare anche più a largo spettro, soprattutto dopo il tempo di Covid che ha portato la necessità, come abbiamo visto, anche di fruire maggiormente delle tecnologie digitali. È un seminario che si svolge principalmente tra le Marche e Roma, molti dei relatori vengono da realtà importanti romane, c'è Valentino Nizio, ad esempio, il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Marco Arizza, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha tra le sue tematiche principali di ricerca l'etica nell'esposizione dei reperti umani e della ricerca applicata ai resti umani e altri colleghi. Insomma, mi dispiace citarne solo alcuni per tutti e poi anche colleghi che si occupano invece delle realtà marchigiane, come Luigi Gallo, il direttore della Galleria di Urbino, Diego Voltolini, direttore del Museo Nazionale delle Marche. E quindi è un'occasione questa, l'inaugurazione del Museo Oliveriano, per riunirci intorno a un tavolo figurato e parlare appunto delle nuove strategie in campo museale. In un anno che anticipa il 2024, in cui Pesaro sarà capitale della cultura. Sì, è un avvio. Come è stato l'inaugurazione del museo, diciamo, sono una serie di tappe che poi porteranno all'anno, al 2024 proprio. Proprio oggi ricorre il primo complimese del nostro nuovo Museo archeologico liveriano e questa volta, dopo la grande festa, insomma, di dicembre, abbiamo pensato di organizzare invece un convegno, un momento di studio, di riflessione e soprattutto di confronto con altre importanti istituzioni archeologiche, museali. E infatti avremo come ospiti i direttori e i responsabili di alcune delle più interessanti organizzazioni, insomma, in questo senso, che arrivano o dalle Marche, quindi abbiamo rappresentanti del Museo archeologico di Ancona o di Ascoli Piceno, ad esempio, oppure anche istituzioni romane, tra le quali, ad esempio, il Museo Etrusco di Villa Giulia. Il tema di queste due giornate di studio sarà essenzialmente quello di un approfondimento relativo soprattutto alla comunicazione, quindi al modo di confrontarsi e di raccontarsi a un pubblico sempre più vasto, che è quello che noi abbiamo iniziato a fare appunto con la nostra festa di dicembre, che poi vorremmo continuare a farlo e soprattutto farlo anche secondo i più rinnovati e importanti, anche i principi metodologici del settore. L'organizzazione di un convegno a integrazione di quell'evento straordinario che è stato l'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Oliveriano lo scorso dicembre e questo è un momento di riflessione, di approfondimento scientifico in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda anche le marche, perché l'inaugurazione diciamo di un museo, la nascita di una nuova collezione, è un momento straordinariamente importante di felicità in qualche maniera e soprattutto in un posto come questo, in cui tra la fine del 2016 e il 2017, invece a seguito dei venti sismici, molti di questi musei sono stati, molti dei musei dell'area del cratere, che non hanno interessato Pesano, ma sono stati chiusi, disallestiti, mostre temporanee che sono state fortemente danneggiate. Quindi l'inaugurazione di un museo con una serie di attività collaterali, quale un convegno dedicato alle dinamiche museografiche e di esposizione, rappresentano certamente un momento di crescita importante per la comunità e per tutti gli addetti ai lavori.